Il caso dell'evento The Sevent Art, destinatario per 12 edizioni di fondi regionali, nonostante come da numerosi riscontri fatti in questi giorni non se ne ricordi traccia, almeno nel recente passato, sarà oggetto di indagini interne in regione. Il consigliere regionale delegato alla cultura, Leandro Bracco, ospite della nostra trasmissione Polis, dedicata al sistema dei finanziamenti e alle manifestazioni del settore cinema, ha annunciato che farà un accesso agli atti. Lei ha annunciato un accesso agli atti, perché? Sì, è quello che farò, anzi grazie per la vostra inchiesta. Questa vicenda ha parecchie sfaccettature a dir poco nebulose, quindi credo che si possa fare chiarezza solamente con l'accesso agli atti in profondità, perché se le cose stanno realmente come mi pare di aver percepito durante i vari servizi, durante Polis, la cosa è abbastanza pesantuccia, quindi facciamo un bel approfondimento tramite l'accesso agli atti. De Seventart non è rientrata tra le manifestazioni finanziate per il 2014, così come è accaduto per ben altre più conosciute manifestazioni, come il premio di Venanzo e Cineramnia, ma il fatto che il consigliere alla cultura, per capirne di più, proponga un accesso agli atti, lascia interdetto il consigliere regionale ed ex assessore Paolo Gatti. Cioè si fa l'accesso agli atti da solo? Farrebbe. Insomma, che devo dire, mi pare che stiamo scoprendo nuove categorie, adesso si fanno le interrogazioni da soli, si fanno le autointerpellanze, a me sembra, non vorrei usare vocaboli forti, credo che le cose vadano riflettute, adesso esaminate, mi sembra, insomma, alla luce della storia, dei fatti, della conoscenza che ho di alcuni eventi, tipo il premio di Venanzo, ma anche Cineramnia. Insomma, mi pare che ci sia un problema. Problema che Gatti ha proposto a Mauro Febbo di affrontare in sede di Commissione di Vigilanza. Per risolverlo, io ho già sentito il Presidente della Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale, Mauro Febbo, ce ne occuperemo in quella sede.